Nel senso che io dal 14 marzo, prima ci scambiavamo dei messaggi, era molto legata a me, come io a lei, ma tutti erano legati a lei, come non era possibile essere legata a lei. E' partita proprio all'improvviso e quindi il senso dell'improvviso ti fa anche avvertire in meno, cioè proprio in cose vanescente. Però il messaggio io ho continuato a mandare, l'ultimo messaggio io l'ho mandato una settimana fa perché mi aveva detto che stava meglio. Infatti io ho detto, dico ho saputo che stai meglio, dico lo so che non lo leggerai in questo momento, ma quando te lo sveglierai magari ti fa piacere. Adesso sono convinto che il messaggio lo legge e guarda tutti noi. Grazie, tutto qua.